ciao volevo chiedere alla storica se poteva fare un video su carlo magno e nel caso in cui l'avesse già fatto e io non me ne fossi accorta chiedo scusa e peraltro ho il terrore di parlare italiano con molti errori perché oggi è stata una giornata devastante e ho parlato diverse lingue straniere tra cui appunto l'italiano e allora devo dire che capisco se qualcuno mi scriverà ecco tu non sai l'italiano perché è una cosa veramente degli italiani è che quando uno fa un errore c'è l'insulto proprio che viene appioppato subito quindi probabilmente oggi me ne prenderò alcuno peraltro devo dire che questa cosa di carlo magno mi interessa molto perché effettivamente un bel passino di storia non mi guasterebbe alla mia preparazione comunque sia io sono qui questo mondo per migliorarmi e per imparare sempre di più quindi ringrazio la storica ecco mi piace molto come come spiega e se nel caso riuscisse a farmi ricordare qualcosa di storia devo dire che avrei solo da ringraziarla grazie a tutti ciao e buona serata ciao ciao